Vizio, anche il predecessore del Capitano D'Aleo era stato ucciso, il comandante della Compagnia di Monreale, l'unico caso in Italia. Assolutamente sì, tre anni prima dell'uccisione del Capitano D'Aleo fu ucciso a Monreale mentre si trovava con la moglie e la figlia di quattro anni il Capitano Basile, appunto il suo predecessore. All'indomani dell'uccisione di Basile prende il suo posto il Capitano D'Aleo che con straordinario coraggio e determinazione continua l'operato del suo predecessore. È una circostanza che anche lui pagherà con la vita insieme all'appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici. Come mai proprio Monreale nel mirino della mafia? La Compagnia di Monreale allora come oggi si estende su un territorio vasto e complicato che comprende territori ad alto indice mafioso come Altofonte e San Giuseppe Iato che rappresentavano i principali alleati dei Corleonesi che in quel momento stavano svolgendo la loro scalata al vertice. Infatti nel 1983 siamo proprio alla fine della seconda guerra di mafia che comporterà la definitiva scesa dei Corleonesi e la sconfitta della mafia palermitana. Quindi in quegli anni stavano proprio cambiando gli equilibri di Cosa Nostra e i principali alleati dei Corleonesi guidati da Salvatore Riina insistevano proprio a San Giuseppe Iato e d'Altofonte dove si trovavano famiglie mafiose, sanguinarie e violente. Però negli anni in cui il Capitano D'Aleo è alla guida della Compagnia di Monreale, Salvatore Riina non a caso trascorre la sua latitanza nel territorio di San Giuseppe Iato. Quindi prima Basile e poi D'Aleo alla guida della Compagnia di Monreale avevano compreso quali equilibri criminali stavano cambiando in quegli anni. Nonostante ancora si conoscesse poco di Cosa Nostra non vi erano ancora collaboratori di giustizia. Questo intuito investigativo, questi successi investigativi li pagarono con la vita. È importante sottolineare che entrambi erano molto consapevoli dei rischi che affrontavano, soprattutto all'indomani dell'omicidio a Basile. Aveva avuto degli avvertimenti il Capitano? Assolutamente sì, proprio all'indomani dell'omicidio a Basile era chiaro come il loro impegno nella lotta a Cosa Nostra avrebbe potuto comportare dei rischi altissimi. Quindi prendere la guida della Compagnia di Monreale all'indomani dell'omicidio del suo predecessore fu per il Capitano D'Aleo e per gli uomini che lo accompagnarono sicuramente una grande presa d'atto dei rischi che stavano in quel momento affrontando. Però nonostante questo continuarono a svolgere il proprio dovere fino in fondo a qualsiasi rischio che poi si configurò con la loro uccisione. Intanto le immagini che vediamo durante la nostra intervista sono immagini di quel periodo delle nostre teche, delle teche Rai, trasmesse raramente in cui si vede proprio il Capitano D'Aleo al lavoro. Intanto qual è il contributo investigativo che è stato dato? Il contributo investigativo è altissimo. La strage di via Scorba rappresenta un momento fondamentale nella lotta contro Cosa Nostra e infatti è il primo omicidio che viene deliberato dalla nuova commissione a guida corleonese che si definì, appunto, come abbiamo ricordato dopo la seconda guerra di mafia. Il contributo investigativo dato da Basile prima e da D'Aleo dopo insieme ai loro collaboratori fu importantissimo e gettò le basi per i successi che poi lo Stato conseguì negli anni successivi, l'ultimo dei quali l'arresto di Matteo Messina De Naro di qualche mese fa, il cui padre, lo ricordiamo, siedeva nella stessa cupola che in quegli anni guidava Cosa Nostra. Il contributo che diede in quegli anni alla Compagnia di Morale fu altissimo e fu pagato con la vita dai nostri caduti. Ecco, lei è il comandante della Compagnia di Morale, come raccoglie la loro eredità? Sicuramente sentendo il grande peso che questa responsabilità comporta e cercando di compiere il proprio dovere fino in fondo ogni giorno, che è il miglior modo per onorare i nostri caduti. Grazie, grazie Capitano Quattrocchi per essere stato con noi, buona giornata.